Ciao, un besito a tutti. Tutto bene? Tutto bene? Pistola esplosi dal 29enne Federico Pecorale, scontento della salatura degli arrosticini che il dipendente di Casa Rostiglia aveva servito, ha nominato Piero Bisceglie come proprio legale. Raggiunto telefonicamente, l'avvocato dei Rosado Guzman fa sapere di essere pronto a formalizzare l'incarico in procura a Pescara e a prendere possesso delle carte che gli consentiranno di avere un quadro più chiaro e dettagliato per occuparsi della vicenda. Intanto Federico Pecorale, che ieri davanti al GIP del Tribunale di Pesaro per l'udienza di convalida del Fermo si è avvalso della facoltà di non rispondere, resta in carcere ad Ancona. Per il 29enne il suo difensore, Florenzo Coletti, ha chiesto il trasferimento in una clinica psichiatrica facendo leva sull'invalidità civile che in Svizzera gli era stata riconosciuta dopo un incidente avvenuto nel 2010 sulla circonvallazione di Montesilvano e per la quale Pecorale percepiva un sussidio di 1.500 franchi. Proprio l'avvocato Coletti, ieri, ha incontrato la stampa di ritorno da Pesaro dopo l'udienza di convalida del Fermo. Federico Pecorale si è avvalso dalla facoltà di non rispondere e pertanto dal punto di vista dell'istruttoria siamo fermi al punto di partenza perché non ha dato ulteriori elementi. Questa scelta processuale si è resa necessaria perché, come già ho preannunciato, andremo su una richiesta di perizia psichiatrica per valutare se Federico, al momento in cui ha commesso il fatto, fosse capace di intendere di volere o altro. Federico ha dimostrato che nel momento in cui è sotto pressione va sostanzialmente in blocco, tanto che alle domande di rito del giudice non ha ricordato a malapena il nome, ma non ricordava assolutamente nel luogo di nascita, nella data di nascita, nella residenza. Questo va a valorare la mia ipotesi che ci siano dei problemi importanti. Federico nel momento in cui è sotto pressione ha questi blocchi, poi successivamente secondo me probabilmente si è reso conto della gravità e a questo punto ha tentato di andare via. Però il problema è il momento in cui è stato commesso il fatto. Io devo rivedere tutto l'evento dall'inizio, dal momento in cui Federico entra nel bar, perché a leggere le dichiarazioni rese dal test che era presente, il tutto è durato parecchio. Quindi secondo me qualcosa nel frattempo è successo. Le chiedere il rito abbreviato? Sì, da parte mia, della famiglia di Federico, c'è un forte senso di solidarietà e un abbraccio grandissimo e c'è un augurio a che Gelfry possa tornare al più presto in forma e possa superare questo momento.